Cari lettori e lettrici, la novità letteraria che sto per presentare è un romanzo di narrativa contemporanea, che parla di rinascita personale e di come l'amore verso i propri figli possa diventare un potente motore di trasformazione. La narrazione offre uno sguardo autentico e toccante su cosa significhi ricostruirsi dopo una crisi, proponendo una riflessione su come la forza interiore possa nascere dal desiderio di proteggere chi amiamo. La trama del libro La lenta risalita della scrittrice Roberta Fiaccavento, pubblicato dalla casa editrice gruppo Albatros Il Filo, è la seguente. Rachele è mamma di due bambine piccole e sta divorziando da Aldo, l'uomo che credeva sarebbe rimasto al suo fianco per sempre. Vorrebbe gridare al mondo il suo dolore, rivendicare il suo diritto alla tristezza ma la responsabilità dell'amore che nutre per le sue figlie le impone di iniziare una lenta risalita. Con la consapevolezza che solo partendo da se stessa potrà tornare a sentirsi viva da morire. Grazie per l'attenzione e buona lettura. Mi piacerebbe sapere cosa ne pensi della trama del libro presentato, se hai voglia di condividere il tuo pensiero lasciami un messaggio. Celebra la magia della lettura condividendo questo video e aiutami a diffondere l'amore per i libri. A te non costa nulla, per me sarebbe un bel gesto di gratitudine. Ricorda, ogni piccolo gesto può fare la differenza. Per non perdere le novità letterarie e iscriviti al canale.